Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Allora, voglio darvi un consiglio per utilizzare al meglio la strategia di trading che ho già condiviso qui sul canale. Ti metto il video nelle schede con tutta la spiegazione, anche in descrizione lo trovi. Strategia di trading che sta funzionando molto bene su Bitcoin proprio perché in questo momento il mercato non è che sia proprio laterale. È una strategia che funziona, ma ci sono alti e bassi. Come potete vedere, la strategia ti dà il segnale di vendere. Tu vai short, ci prende, poi a volte ci sono dei falsi segnali, bisogna stare attenti. E poi vai sul buy, quando ti dà il segnale di buy, come vedete molto spesso ci prende. Però a volte appunto possiamo, ed è il tema di questo video, cercare conferma della strategia, siccome noi operiamo su un time frame di 5 minuti, andando a vedere il time frame di 15 minuti, ok? Ecco, vedete, questa dovrebbe essere la fase in cui, qui aveva dato un segnale di buy. Faccio questo video proprio adesso perché in questo momento appunto la strategia dice che al di sotto della linea, quando le candele diventano rosse, vanno al di sotto della linea del linear regression, che è l'indicatore che stiamo usando, linear regression alla candele e ut bot alert. Sono su TradingView, ti basta aggiungere questi due indicatori e poi cancellare il grafico, nascondere il grafico, sceglierti il grafico poi dell'exchange che stai utilizzando. Comunque in descrizione trovi la strategia e anche nelle schede te la metto. Guardatela se vuoi provare. Ovviamente non sono consigli finanziari, stai attento, io non sono un trader, condivido solo in questo canale come guadagno online. In questo momento questa strategia di trading sta funzionando. Ti ricordo che in descrizione trovi il link per iscriverti a BitGet, che è l'exchange che io utilizzo per fare trading. C'è anche questa promozione, se sei nuovo vai nel primo link, ti registri e hai il 10% di sconto sulle fee a vita, quindi risparmi. Poi nel secondo link, sempre in descrizione, trovi questa promozione. Clicchi qui su registrati, se sei nuovo ottieni. Allora, per quelli che sono già iscritti c'è questo premio di 20 dollari, se fate un volume di trading spot di almeno 1000 USDT, che alla fine comprate 1000 USDT di una cripto e vi danno 20 USDT. Praticamente, trading spot è questo, ok? Ed è, se siete già iscritti con il mio link, vi ritrovate questo. Se invece siete nuovi, trovate altre due task. Se depositate 100 USDT ve ne danno 50 e poi se fate volumi, ma pochissimi volumi, con un'operazione di trading ve ne danno altri 30. Quindi, chi si iscrive per la prima volta ha un totale di 100 USDT, perché poi avete anche questo, da 20 USDT, facendo trading spot. Quindi, con 1000 dollari, comprate delle cripto. Quindi, vai in descrizione se stai pensando di comprare delle cripto, per esempio, provare la mia strategia di trading. E questo sono io. E quindi, per i nuovi iscritti, ci sono fino a 100 USDT di bonus, iscrivendovi con il mio link e poi partecipando, dovete cliccare qui, io ho già cliccato, qui c'è il pulsante registrati. Fino a 100 USDT di bonus. Semplicemente, depositi 100, ne ottieni 50. Fai trading con 5000 volumi e ne ottieni altri 30. Fai trading spot con 1000 USDT di volumi e ne hai altri 20. Totale 100. Mi raccomando. Allora, il consiglio che vi voglio dare in questa strategia è di controllare, vedete, qui, se io vado sul 15 minuti, c'è una situazione di incertezza. Ok? Però io vedo un po' ricarica, un po' tutto fermo. Allora, c'è una situazione di incertezza sui 5 minuti. Qui, in teoria, mi doveva dire vai short, ma in realtà, se vado sul 15 minuti, è long. Quindi, controllate il time frame anche a 15 minuti. Quando anche, diciamo che i due time frame coincidono, allora avete un confermo maggiore che magari il segnale che vi ha dato poi performerà correttamente. Ok? In descrizione trovate anche tutti i tutorial per iscrivervi a BitGet. Tutti i tutorial, vabbè, è molto semplice, vi basta una mail. Ah, la promozione, ragazzi, è valida per chi fa il KYC, mi raccomando. E poi i premi sono distribuiti entro 7 giorni lavorativi, al termine della promo. Questa promo finisce il 20 aprile. Quindi il 27 aprile avrete i vostri bonus. Quindi, ci sono ancora 12 giorni, 14 giorni e 35 minuti, in cui la potete sfruttare. Tutti i link sono in descrizione. Qui la situazione è un po' ferma, quindi io non entro. Cerco la mia conferma sul time frame di 15 minuti. È tutto immobile. Non capisco perché è tutto immobile. C'è forse un momento di lateralizzazione, quindi. State attenti. Quindi, solo quando vedete Buy e Sell, prendete in considerazione l'idea di poi andare long o short. Però vi consiglio di fare anche una conferma sul time frame di 15 minuti. Ok? Molto semplice. Vi basta andare su Trading View, ragazzi, selezionare negli indicatori. Andate qui. Indicatori. Cercare Linear Regression Candle. Ok? E selezionarlo. Ok, io già ce l'ho selezionato. Puoi andare qui nelle impostazioni e mettere su Signal Smooth X7, su Linear Regression 11. Poi lo stile. Mi raccomando, io la linea l'ho messa nera, così che è ben visibile. Poi inserite OutBot Alerts, sempre su Indicatori. OutBot Alerts. Alerts, questo qui. E nelle impostazioni andate a mettere l'input su Key Value 2 e su ATR Period 1. Ok? La strategia è molto semplice. Quando, diciamo, le candele sono al di sopra della linea nera, andate long, però io, poi, testandolo, ho visto che aspetto che comunque mi esca il pulsante Buy o Sell. Quindi, quando OutBot Alert vi dà il segnale, voi entrate. Se, quindi, va al di sopra della candela, cioè, se va al di sopra della linea, andate long, se va al di sotto, andate short. E poi, io di solito, alla prima candela che inverte, quindi se sono andato long alla prima candela rossa, chiudo, e se sono andato short alla prima candela verde, chiudo l'operazione. Cerco conferma anche sui 15 minuti e, quindi, quando coincidono sia i time frame di 15 minuti che il time frame di 5 minuti, ovviamente, vado. Considerazioni da fare, ragazzi, sulla carta è bellissimo, ci sono praticamente le regole, dobbiamo seguirle, ma quando entriamo con i soldi, ragazzi, entrano in ballo le emozioni e, quindi, poi, facciamo delle cavolate incredibili. Magari, non rispettiamo più... Sapete quante volte mi è successo che qui, magari, prima candela verde, rossa ho chiuso, poi è diventata verde, allora sono rientrato a metà, sono tutti errori. Dovete seguire la strategia alla lettera. Io adesso sto operando con un budget anche, diciamo, interessante, 2000 USDT, leva 10, che poi, in realtà, metto sempre leva 12, leva 13. Mi raccomando, non esagerate con le leve, ecco, in base al budget, così avete più margine per lavorare e, comunque, quando il segnale ha sbagliato ed esce... Per esempio, qui c'era un buy, qui era buy, arriva la prima candela rossa, chiudete, ragazzi, anche se chiudete in perdita, però, poi... Sì, qui forse avreste... avreste potuto, poi, ripartire, però, magari chiudevate qui, aspettavate, qui partiva il buy e andavate. Comunque la strategia funziona, a parte quando lateralizza, però, guardate qua, che bel segnale di buy, tu, 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 qua sono soldi, ragazzi, eh, sono soldi, ma fate attenzione e il consiglio di questo video è controllate sempre col time frame anche di 15 minuti per cercare le vostre conferme, ok? Perché è anche un po' più pulito, diciamo, il time frame di 15 minuti, qui non si capisce, tutto fermo, e quindi io sto fermo. Vi ricordo che tutti i link sono in descrizione, iscrivetevi a BitGet, avete 10% di sconto sulle file, e poi nel secondo link che trovate in descrizione registratevi a queste attività per i nuovi utenti fino a 100 USDT di bonus per quelli vecchi che sono già entrati con il mio link vi basta comprare 1000 USDT di cripto fare trading spot e ne avete 20, sono bonus non potete prelevarli ma potete utilizzarli per fare trading e quello che guadagnate poi potete prelevarlo tutti i link sono in descrizione e fatemi sapere che cosa ne pensate come sta andando il vostro trading noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao! ciao!